Amici di Football is my life, è tutto calcio, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sulla Supercoppa italiana, Juve Milan 4-5 dopo i calci di rigore. Allora, prima di iniziare col commento della partita, però vorrei fare una piccola considerazione. Perché bisogna far giocare la Supercoppa italiana in Qatar a fine dicembre, quando in tutti gli altri paesi europei la Supercoppa nazionale si gioca nella nazione interessata a metà agosto? È una cosa che proprio io non capisco il senso, però iniziamo a parlare della partita. Una bella partita nel complesso, primi 20 minuti con un'ottima Juve che ha aggredito il Milan non facendoli proprio capire, un tubo, una Juve che ha avuto subito delle buone occasioni con delle conclusioni da fuori, primo con Sturaro e poi con Manciukic, Donnarum però si è fatto sempre a trovare pronto, e poi la Juve è passata in vantaggio con un colpo di testa di Chiellini su calcio d'angolo. Ho segnato il gol, poi la Juve tira un po' i remi in barca, il Milan cerca di attaccare e trova il pareggio con Bonaventura. Un bel gol, un colpo di testa su un cross dalla destra di Suso. Nel secondo tempo poi la partita continua su buoni ritmi, ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Il Milan sfiora il gol con una traversa di Romagnoli, la Juve va vicino al gol con una botta di Chiedira da fuoriare, dove però Donnarum è sempre pronto, si va ai supplementari. All'inizio sembra che ne abbia un po' di più il Milan con bacca che si mangia un gol incredibile. Prima Buffon fa un miracolo su Bonaventura, poi la palla rimane lì all'attaccante colombiano che deve solo spingere in rete ma non riesce. E poi la Juve sbaglia il gol a pochi minuti dalla fine con Dybala da due passi che spara alle stelle un cross basso di Evrao. Si va ai calci di rigore, qua si sa, i rigori sono una lotteria, può sempre succedere di tutto. Nel Milan sbaglia solo la Padula che calcia la palla addosso a Buffon. Nella Juve invece sbagliano Mandzukic che prende la traversa e Dybala che era l'ultimo rigore della Juve parato da Donnarum. A rigore seguente viene calciato da Pasalic che mette la palla in rete e consegna così la Supercoppa italiana al Milan. Facendo un po' le pagelle, nella Juve è dato 6,5 a Buffon, una buona partita per lui. 5 a Listeiner che è stato costantemente in sofferenza. 6 a Rugani, 7 a Chiellini, buona prestazione condita anche da un gol. 6,5 ad Alexandro, dovuto uscire per infortunio però fino a quando c'era lui la Juve stava giocando bene, era anche riuscito ad annullare Suso. 6,5 a Chedira e a Marchiso, buona prestazione. Mezzo voto in più a Sturaro che si prende 7 che ha lottato veramente tantissimo in tutta la partita, ha anche espirato il gol. Poi è dovuto uscire per infortunio. 5,5 a Pjanic, 5 a Higuain, poco pericoloso. Ha segnato giusto il rigore nella lotteria alla fine. 6 a Mandzukic, buon primo tempo. È calato nella ripresa, poi ha sbagliato uno dei rigori della Juve. Subentrati 5 ad Evra che è subentrato a Alexandro e quando lui è entrato la Juve è iniziato ad andare in sofferenza sulla fascia sinistra. Infatti quando c'era Alex Sandro, Suso era limitato, non riusciva a rendersi pericoloso. Invece appena è entrato Evra, Suso è cresciuto di ritmo e ha fornito diversi cross per i compagni in area di rigore. Di Bala a 5,5. Di Bala che ha giocato dietro le due punte, non è il suo ruolo. Ha fatto vedere qualcosina di interessante, però ha sbagliato anche un gol davanti alla porta che avrebbe portato la Supercoppa alla Juve. Poi ha sbagliato anche il rigore decisivo. 5,5 a Limina. Allegri invece 5,5. Nel Milan invece ho dato 7,5 a Donnarumma che ha compiuto diversi buoni interventi sia nei tempi regolamentari ma ha anche fatto qualche buona parata nei supplementari. Poi ha parato l'ultimo rigore della Juve. 6 ad Abate. Bene la coppia centrale Romagnoli e Paletta 6,5. 5,5 ad Escilio, uno dei giocatori più negativi del Milan. 6,5 a Cucca. 6 a Locatelli. 6 a Bertolacci. 7,5 a Suso. Parte male quando c'è Alex Sandro che lo limita molto. Sale invece in cattedra quando entra in campo e vrà. 5 a Bacca. Bacca che è stato praticamente nullo. Non ha saputo tenere su un pallone. Poi ha sbagliato anche un gol a inizio dei supplementari. 7,5 a Bonaventura. Solita prestazione da giocatore volenteroso condita anche da un gol. Subentrati 6,5 a Pasalic che è stato l'eroe della partita col rigore. 6 a Antonelli. 5,5 a La Padula. Ha cercato di muoversi un po' di più. Ha solamente calciato malissimo un rigore. Che però alla fine è ininfluente per il risultato. Allenatore Montelli invece 7. Con questa vittoria il Milan ottiene il suo primo trofeo stagionale. Che corona una ottima prima parte di stagione. Al di là di ogni aspettativa. È il 29esimo trofeo di Berlusconi in 31 anni. E sono anche contento perché il Milan è una squadra giovane italiana e con un buon progetto. Non è una squadra fortissima però con qualche altro buon investimento secondo me può completarsi e diventare una squadra ambiziosa. Poi in panchina ha anche un allenatore che a me personalmente piace molto. La Juve invece è stata un po' sfortunata perché ha perso due giocatori per infortunio. Cioè Alex Sandro ed Sturaro che erano anche tra i migliori in campo. Però la Juve deve anche un po' far mia colpa perché ha tirato troppo il remi in barco una volta che è passata in vantaggio. E la Juve deve temere soprattutto se stessa perché così non dico che rischi di compromettere il campionato. Però se la Juve non dovesse vincere lo scudetto le colpe saranno le sue perché le altre avversarie non fanno paura. È la Juve che rischia di far paura a se stessa quando usa questo atteggiamento. Va bene ragazzi questo era il commento della partita. Fatemi un po' sapere voi come la pensate. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale e alle varie pagine Facebook. Vi auguro buon Natale e buone feste. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!